...dell'estrema destra, neofascisti e neofascisti. Lavorare in un paese come l'Italia per fatti di terrorismo, di estrema destra, è molto neofascinale. Devo dire che per esempio quando si toccano certi settori dello Stato, ad alto livello, diventa ancora più preoccupa. Io ricordo il processo ad esempio della strada di Bologna è quello più significativo. Non si depista se la pista è quella giusta, se la pista è quella sbagliata. Cioè io se vado su una strada, una direzione giusta, o qualcuno che mi viene incontro vuol dire che vuole bloccare quella realtà. In effetti questo è successo a Bologna.